A Caltanissetta, nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto Giovanni Puzzanghera, 37 anni, per detenzione e fini di spaccio di 2 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish, ricettazione e detenzione illegale di due pistole e relativo munizionamento. Perquisita l'abitazione di Puzzanghera, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nel quartiere Providenza, rinvenuti 20 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno e 35 grammi di sostanza da taglio per sostanza stupefacente del tipo cocaina. Dopo una perquisizione personale, i poliziotti rinvenivano delle chiavi che aprivano altri locali. Occultata all'interno di un garage, veniva trovata una pistola semi-automatica calibro 7,65 con colpo in canna. Le perquisizioni continuavano in altri locali di pertinenza dell'abitazione e gli agenti rinvenivano uno zenetto con all'interno un'altra pistola. Un'arma era stata portata via da un'abitazione durante un furto nel giugno dello scorso anno. Nel corso delle perquisizioni venivano ritrovati anche dei libri antichi di giurisprudenza civile, penale e commerciale risalenti alla fine del 1800. Indagini in corso.